Le condizioni sono sicuramente perfette, la cosa più importante per uno che sta vivendo questa esperienza. Tutto il resto sta avendo la possibilità di vedere il genitorio molto tantenne per qualche minuto e l'emozione è forte, sia da parte sua che da parte del genitorio. Com'è stato l'incontro col padre e con i familiari? No, è stato un incontro come i genitori che rivedono il figlio dopo più di un anno e il figlio che rivedono il genitore dopo tanto tempo. Solamente anche se ognuno di loro cerca di bloccare l'emozione ma poi alla fine non si ci riesce e quindi qualche l'aria non si può. L'ex senatore si è permesso di dare un suggerimento sulle elezioni? Assolutamente no, la politica ormai è una cosa che appartiene al passato, quindi ha portato la nostra famiglia a tanto scompiglio e è bene che esce fuori violentamente così come è entrato in punta di piedi. Grazie.